Ciao da Absim! Sul finire di questa stagione 2020-2021 stiamo ad interrogarci sul futuro di Cristiano Ronaldo. Se resterà alla Juventus per quello che sarà il suo ultimo anno di contratto, fino a giugno 2022, oppure deciderà di andare via prima, e cioè appunto alla fine di questa stagione, praticamente dopo l'Europeo. È una situazione ovviamente molto complicata che in ogni caso porterà a qualcosa di molto importante, perché se Ronaldo dovesse andare via naturalmente sarebbe clamoroso il suo addio anticipato e porterebbe appunto ad anticipare l'epoca della Juventus post-Ronaldo con tutto quello che ne consegue a livello di programmazione, a livello di immagine e quindi a livello poi di futuro, perché dopo Ronaldo parte tutta un'epoca, tutto un periodo che sarà molto lungo senza Ronaldo appunto, a prescindere da quelli che poi saranno gli ulteriori acquisti della Juventus ed eventuali altri grandi colpi di mercato a livello di top player, che comunque ottimisticamente, anzi realisticamente, non ci aspettiamo nel breve periodo, perché non è periodo, non è il momento. Se invece Ronaldo resta sarà comunque una cosa molto importante, perché significherà andare avanti un altro anno con lui all'interno di una progettualità che fino a questo momento, proprio in questi suoi primi tre anni, prime tre stagioni alla Juventus, è stata deludente, è stata frammentaria, è stata precaria. Basti pensare che Ronaldo ha conosciuto alla Juventus tre allenatori diversi, l'ultimo Allegri, l'unico Sarri e il primo Pirlo, che potrebbe anche essere l'ultimo, eppure questa è un'altra cifra importante in tutto quanto il discorso. E dobbiamo interrogarci allora su questo, perché ho letto tanti dei vostri commenti e se ne sta parlando tanto, anche perché c'è una fazione del tifo juventino che in qualche modo è anti-Ronaldo, o comunque sottolinea le criticità della presenza di Cristiano Ronaldo alla Juventus, e un'altra che invece è pro-Ronaldo, o comunque sottolinea l'inadeguatezza, più che altro, della Juventus a Cristiano Ronaldo. E quindi qual è la faccia giusta della stessa medaglia? Qual è il problema per cui con Ronaldo la Juve ha vinto meno che prima di Ronaldo? e ha ottenuto meno a livello di piazzamenti europei rispetto a quando appunto Ronaldo non c'era e ci giocava anche contro. Eppure siamo riusciti appunto ad arrivare in una finale pur perdendola e in un quarto di finale pur venendo eliminati all'ultimo minuto per un gol, anche se lì c'era tutto un problema di atteggiamento. Che cos'è che è andato storto sostanzialmente? Che cosa non ha funzionato e che cosa non sta funzionando? E di conseguenza quale sarebbe la cosa più giusta da fare per il futuro? Perché le statistiche ci dicono che cosa è successo fino a quel momento e che cosa potrebbe succedere ma non con certezza. La storia fa più o meno la stessa cosa ma forse in maniera più scientifica e attendibile. Cioè ci dice come sono andate le cose in passato e di conseguenza secondo quale modello potranno svilupparsi nel futuro. E quindi dobbiamo interrogarci sostanzialmente su questo ma avere già una risposta alla domanda. La Juventus ha accompagnato Cristiano Ronaldo all'interno della Juventus offrendogli una crescita adeguata? Cioè la Juventus si è messa o ha provato a mettersi al livello di Cristiano Ronaldo oppure ha messo Cristiano Ronaldo nelle condizioni di essere un elemento disgiunto, un elemento autonomo a sé stante all'interno di un contesto non all'altezza? La risposta vi dicevo ce l'abbiamo già ed è la seconda. La Juventus ha preso Cristiano Ronaldo o meglio Cristiano Ronaldo a un certo punto della sua carriera ha scelto perché è andata così di venire alla Juventus. La Juventus ha accettato, ha preparato tutto quello che c'era da preparare a livello economico, a livello finanziario ma non ha preparato quasi nulla di quello che c'era da fare a livello tecnico. E ci poteva stare il primo anno perché venivi appunto da una dinastia, quattro anni di allegri e quindi provavi ad andare avanti ancora con lo stesso allenatore e comunque tutta questa trattativa, tutta questa decisione è durata qualche mese, molte settimane potremmo dire esagerando e quindi la Juve poteva non aver avuto il tempo in quell'estate 2018 oltre a mettere a segno la complicata operazione Ronaldo per andare a fare altri colpi significativi che alzassero il livello tecnico di quella squadra. Ma l'anno successivo non hai più alibi e ancora di meno ce l'hai quest'anno sostanzialmente, quindi l'estate 2020, nonostante la pandemia di mezzo. Perché dobbiamo capirci, non è una questione di spesa, non è una questione di top players, non è una questione di giocatori costosi, è una questione di programmazione e di progetto. In quali Juventus si è trovato a lavorare Cristiano Ronaldo? Ripercorriamo anche i nomi della rosa a disposizione della Juventus insieme a Cristiano Ronaldo perché magari alcuni li abbiamo dimenticati. Poi vediamo quelli che sono stati gli acquisti e le eccezioni, facciamo un recap, andiamo a ricordare un po' com'è andata e cerchiamo di capire qual è l'elemento che ha fatto saltare il banco, diciamo, che non ha fatto funzionare le cose perché dobbiamo ammettere, ripeto, che le cose non hanno funzionato, non stanno funzionando a dovere. La Juventus da Cristiano Ronaldo ha ottenuto 97 gol più gli assist, gol decisivi, vittorie decisive, senza di lui, giusto sottolinearlo, non avremmo forse vinto lo scudetto dell'anno scorso, forse non avremmo vinto neanche l'ultimo scudetto di Allegri o comunque avremmo fatto tanta difficoltà, tante partite non le avremmo proprio giocate, pensiamo all'andata e al ritorno con l'Ajax perché senza Ronaldo l'Atletico Madrid probabilmente sarebbe stato insuperabile. Quindi tante cose positive, tantissime cose positive che parlando in termini oggettivi, poi parlando in termini soggettivi, vabbè, è Cristiano Ronaldo, il semplice fatto che possa ogni volta indossare la maglia della Juventus che poi la butti via o meno, al di là di quel caso che è venuto fuori, è una gioia immensa e ancora viviamo una grande gioia al solo pensiero che Cristiano Ronaldo è arrivato alla Juventus, ha scelto la Juventus in quell'estate 2018, è ancora un sogno, però ci stiamo pian piano svegliando e dobbiamo capire cosa resta al di là del grande potenziamento finanziario della Juventus perché con Ronaldo il titolo in borsa è salito tantissimo e si è stabilizzato a livelli più alti, ha fatto praticamente uno step up a livello commerciale, abbiamo potuto, la Juventus ha potuto stringere accordi con altri partner regionali o internazionali e ha migliorato le condizioni degli accordi in essere, quindi la Juventus è più ricca, è più famosa, è più potente a livello economico, nonostante poi la brutta botta della pandemia per tutto il mondo del calcio però, non soltanto per la Juventus, e questo è un dato inconfutabile e quindi la cifra del vantaggio che ci ha dato Cristiano Ronaldo è lì, è osservabile, è tangibile, però poi sul campo le cose non hanno seguito quella tendenza, ripeto, abbiamo smesso di vincere per esempio la Coppa Italia che avevamo vinto 4 anni consecutivamente, abbiamo accompagnato 2 volte su 3 con la Supercoppa Italiana e quest'anno con ogni certezza, neanche più probabilità, non vinceremo neanche lo scudetto al di là poi della Coppa Italia. Il tutto è partito con una rosa della stagione 18-19 che era la seguente, Czesni, Perin, Pinsoio, Buffon che era andato via, in difesa Barzagli, Bonucci, Chiellini, Rugani, Benatia che poi fu sostituito con Casares andando via a gennaio, Alexandro, Spinazzola, Cancelo, Quadrado e Desciglio. A centrocampo Pjanic, Chedira, Matuidi, Emrejan e Bentancur, in attacco Ronaldo, Di Balla, Douglas Costa, Bernardeschi e Mandzukic, poi c'era anche Ken con allenatore Allegri. Una rosa adeguata? Sicuramente no, per carenze soprattutto di freschezza e di tecnica a centrocampo, non era una squadra capace di correre forte e quindi non era una squadra in grado di eseguire determinate tattiche, soprattutto in ambito europeo, che consentissero l'apertura degli spazi favorevoli a Cristiano Ronaldo. E poi c'era anche un problema in attacco perché Mandzukic era veramente alla fine della sua carriera, non ne aveva praticamente più, fece quello che poteva fare, Allegri forse gli chiese pure troppo, ma tatticamente era una buona soluzione, ma non era la soluzione ideale. Stagione successiva torna Buffon e quindi Cesni, Buffon, Pinsoio. In difesa Bonucci, Chiellini, De Ligt e De Miral, che si aggregano, Resta Rugani con Chiellini, che però non l'abbiamo praticamente mai avuto tutta la stagione, Alexandro, De Sciglio, Danilo e Quadrato, con Quadrato che neanche avrebbe dovuto farlo, il terzino avrebbe dovuto fare l'esterno alto d'attacco, quindi partimmo con tre terzini soltanto ad affrontare una stagione che al di là del Covid e che nessuno sapeva nulla sarebbe stata comunque molto complicata. A centrocampo, Artur scambiato con... a centrocampo sono state in Pianici ancora, in Pianici, Matuidi, Chiedira, Bentancur, Rabiot e Ramsey arrivati nel frattempo. In attacco, Ronaldo, Douglas Costa, Dybala, Higuain e Bernardeschi. C'era anche Emre Can per mezza stagione, allenatore Sarri. Anche qui vediamo le carenze, ma soprattutto una squadra, una rosa costituita in modo da non consentire all'allenatore di eseguire un piano tattico preciso. A di là del modulo, ma come abbiamo detto tante volte, come ho detto tante volte, con la rosa che aveva a disposizione Sarri, oltre a non poter fare il suo calcio, ma d'altra parte la rosa era stata decisa a livello di mercato molto prima di decidere di prendere Sarri, non era possibile fare una sostituzione senza dover stravolgere tutto a livello tattico. Non c'erano due giocatori in grado di eseguire più o meno gli stessi compiti perché avevano caratteristiche simili. E poi la rosa di questa stagione, Cesdi, Buffon, Pinsoio, Bonucci, Chiellini, Demiral, Alexandro, Frabotta, Quadrado e Danilo, Artur, McKennie, Rabiot, Bentancur e Ramsey a centrocampo, Ronaldo, Morata, Dybala, Bernardeschi, Cluseschi e Chiesa in attacco con l'allenatore Pirlo. E dobbiamo quindi a questo punto chiudere il cerchio, perché anche la rosa di quest'anno non accompagna il livello di Cristiano Ronaldo, andando a ripercorrere gli acquisti, le cessioni e capendo, cercando di capire quindi se il problema è stato di giocatori o di allenatore. Quali sono i giocatori che l'Avvento si ha acquistato da quando è arrivato Cristiano Ronaldo? O un po' prima, cioè dall'estate 2018? Abbiamo preso Cancelo, prima di Cristiano Ronaldo. Poi abbiamo ripreso Bonucci. Abbiamo preso Perin, che doveva sostituire Cesni come secondo portiere e accompagnarlo come primo e quindi sostanzialmente sostituire Buffon. Emre Can, De Ligt, Danilo, poi abbiamo preso anche Cazares, Demiral, Ramsey, Rabiot, Higuain, perché era tornato nel frattempo, Buffon, tornato anche lui, Artur scambiato con Pjanic, Kuluseschi, McKennie, poi Morata e Chiesa per gli acquisti di quest'anno. Quali sono state le uscite? Quante di queste uscite rimpiangiamo? Ah, e a proposito, quanti di questi acquisti sono stati all'altezza? Le uscite, se vogliamo possiamo considerare anche Caldara e Mandragora, perché Mandragora, diciamo, poi abbiamo deciso a quell'estate 2018 di darlo all'Udinese e poi non è praticamente più tornato, ma è stato anche infortunato. Caldara fu quella scelta, ricordate, che l'avevamo appena preso e lo demmo via al Milan perché dovevamo riprendere Bonucci. Higuain, dato via proprio al Milan, ma poi ritornato anche dopo la parentesi Chelsea. Poi abbiamo dato via Benatia, sostituendolo con Cazares perché aveva litigato con Allegri. Lieksteiner, Sturaro, Asamoah e Marchisio sono stati quelli praticamente a fine carriera, possiamo menzionarli solo per dovere di cronaca. Poi, appunto, abbiamo dato via Cancelo dopo averlo preso l'anno prima. Abbiamo dato via Spinazzola, abbiamo dato via Ken, abbiamo dato via Emre Can che non si era preso con Sarri perché era stato messo fuori lista UEFA. Via Mandzukic dopo tante insistenze perché non voleva andare via. Via Luca Pellegrini che avevamo intanto preso per Spinazzola nonostante appunto potesse diventare un giocatore utile per la stagione in corso, quella con Pirlo. Via anche Pjanic, c'è lo scambio con Artur. Via Douglas Costa, Rugani, De Sciglio in prestito quindi dovranno poi essere gestiti così come Perin al rientro alla fine di questa stagione. Via definitivamente Higuain, Matuidi e Chedira quindi con un alleggerimento anche di quelli che erano gli esuberi. Quante cessioni rimpiangiamo? L'abbiamo detto tante volte, Mois Can, Spinazzola, a tratti anche Emre Can sarebbe stato magari utile in alcuni contesti ma soprattutto questi ultimi due. Per non parlare appunto di Luca Pellegrini come già detto che è stato preso per fare la plusvalenza su Spinazzola ma non è stato mai utilizzato tranne quella amichevole contro il Novara 5-0 prima dell'esordio di Pirlo in campionato contro la Sampdoria. E quindi dobbiamo anche fare un recap di quelli che sono stati i ruoli deboli, le posizioni in campo deboli in queste tre stagioni. Sicuramente il terzino destro soprattutto per l'alternanza di non capire poi chi dovesse essere veramente il titolare al di là degli infortuni perché con Cancelo avevamo sistemato il ruolo e il reparto ma poi abbiamo deciso di darlo via e Danilo con un anno di ritardo adesso ci sta facendo un rendimento significativo ma l'anno scorso era stato deludente. Terzino sinistro non si è capito in tempo che Alexandro non ne aveva più e che bisognava darlo via adesso non abbiamo fatto altro che aspettare a lungo dopo una pandemia è difficile guadagnarne tanto intanto lui è invecchiato e sta rendendo sempre peggio quindi è meno appetibile e puoi valutarlo meno quando lo vai a cedere e quindi è stata una grave pecca non sostituire Alexandro per tempo. Poi abbiamo avuto una pecca per quanto riguarda il ruolo del regista perché Tjanic non è mai stato veramente un regista capace di dare i ritmi e di velocizzare il gioco è un adattato in quel ruolo ed è stato adattato per troppi anni. abbiamo mancato anche il ruolo di una mezzala tecnica di costruzione che desse veramente qualità e strappo il cosiddetto centrocampista box to box che magari abbinasse anche la fisicità abbiamo mancato anche di un trequartista quando non l'ha fatto di bala come interpretazione del ruolo ma in alcune situazioni sarebbe stato veramente utile qualcuno che non avesse la fragilità di Ramsey per esempio perché Ramsey come trequartista sarebbe anche perfetto per le qualità ma non riesce a dare continuità e poi ovviamente debolezza nel ruolo di punta centrale perché abbiamo cambiato tanti attaccanti praticamente tre in tre stagioni Mandzukic Higuain e adesso Morata ma non abbiamo mai avuto l'alternativa vera dietro oltre che carenze nell'esterno destro d'attacco permesso che Ronaldo parte da sinistra perché anche lì c'è stata troppa alternanza ma nessuno tranne adesso Chiesa veramente puro per giocare in quel ruolo e Chiesa non gioca esterno destro d'attacco perché gioca al centrocampo quindi vedete che non ci troviamo però al di là dei giocatori e qui volevo agganciarmi di nuovo al discorso ieri sera Paris Saint Germain Bayern Monaco il qual è il centrocampo del Paris Saint Germain Ganagheye e Paredes due giocatori che nessuno di noi juventini vorrebbe alla Juventus ma che partita hanno fatto e quanto sono fondamentali nell'organizzazione di un Paris Saint Germain che è tutt'altro che una squadra di figurine strapagate e di giocatori da Playstation è una squadra con un'organizzazione e una tattica dove ci sono anche i gregari che funzionano e allora la Juventus non è stata scarsa in assoluto in questi tre anni con Cristiano Ronaldo è stata scarsamente allenata il problema secondo me è stato di allenatore perché l'ultimo Allegri ha avuto anche le mani legate e ne parlo a parte ci faccio un video a parte Sarri non è stato messo nelle condizioni ma ha anche deciso di smettere di allenare Pirlo non era assolutamente preparato per innovare e migliorare questa Juventus e quindi è mancato il progetto quello che è mancato con Cristiano Ronaldo non sono stati tanto gli acquisti non è stato il mercato ma il progetto che cosa bisognava fare come bisognava accompagnare Ronaldo in campo che cosa serviva a livello tattico che cosa chiedere a quei giocatori che poi sono stati anche cambiati troppo troppo spesso troppi cambi e troppo inadeguati in tanti casi però qualcosa di più si poteva fare a livello tattico sicuramente anche se del caso non scegliendo di cambiare tutti questi allenatori per esempio tenendoci Sarri un anno in più una volta sbagliato a prenderlo se è stato un errore o magari mandando via Allegri prima proprio accompagnando l'arrivo di Cristiano Ronaldo per iniziare una nuova era che non fosse solo finanziaria e commerciale ma anche tecnico-tattica ne stiamo pagando adesso le conseguenze e le colpe quindi ricadono massimamente e in definitiva sulla dirigenza grazie per l'attenzione non so quanto siete d'accordo con me fatemelo sapere nei commenti mettete like al video se vi è piaciuto condividetelo con chi è interessato ad una ricostruzione di cosa non ha funzionato fin qui in questi tre anni di Cristiano Ronaldo e iscrivetevi al canale attivando le notifiche per i prossimi contenuti ci vediamo molto presto e sempre forza Juve grazie